Doppio appuntamento su tutto il territorio cremonese per quanto concerne i vaccini per i più piccoli. L'ATS Valpadana si organizza rispettando le indicazioni dell'unità di crisi di Regione Lombardia e organizza così nuovi open day riservati alla fascia di età 5-11 anni nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 febbraio. Grazie alla disponibilità della SST di Cremona, Crememantova, sono stati organizzati percorsi dedicati con accesso libero per i bambini e le bambine per i quali non è stato ancora prenotato l'appuntamento per la prima dose. Alla Fiera di Cremona la possibilità di accesso è dalle 8 alle 17 di sabato 5 e sempre dalle 8 alle 17 di domenica 6. A Crema invece sabato 5 all'ex Tribunale di Via Macallè si può accedere dalle 8 alle 19, domenica invece dalle 8 alle 14. E poi c'è Casal Maggiore, sabato 5 febbraio, l'Hub dell'Avis in zona Baslenga promuove un open day ad accesso libero non solo per i più piccoli ma destinato a tutte le età e in particolare a chi non è già in possesso di una prenotazione deve ancora effettuare la prima o la terza dose del vaccino anti-covid. L'iniziativa è riservata alle persone che hanno più di 12 anni di età che potranno recarsi alla sede Avis in strada Baslenga dalle 8 alle 14 della sola giornata di sabato. Le vaccinazioni con prenotazione proseguiranno poi alla sede Avis di Casal Maggiore nei giorni e negli orari consueti ovvero lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14, il mercoledì invece dalle 12 alle 18.